La situazione della sanità nel comprensorio dello Ionio Cosentino ed in particolare dell'ospedale Spoc di Corigliano Rossano è diventata sempre più critica. La mancanza di personale medico e paramedico ha raggiunto livelli insostenibili, con reparti come quello di psichiatria che soffrono per l'assenza di figure professionali adeguate. La denuncia arriva dal componente della direzione regionale del PD, Franco Pacenza. Nell'area in cui parliamo entrambi i distretti sono senza direttore da ormai oltre due anni. Ci sono i reparti ospedalieri, penso per esempio ad una condizione di fortissima sofferenza che riguarda i servizi di psichiatria. Attualmente nel nosocomio di Corigliano c'è un solo medico che garantisce le prestazioni e poi ci sono personale con prestazioni aggiuntive. Tutta la partita che riguarda i servizi psichiatrici territoriali sono in sofferenza, mancano i medici, mancano gli operatori. C'è una condizione di fatto. A complicare ulteriormente la situazione è la gestione frammentata dei concorsi per il reclutamento del personale. L'implementazione dell'azienda zero, concepita per centralizzare e semplificare le procedure concorsuali, non ha ancora prodotto risultati tangibili, lasciando i vari distretti a operare in condizioni precarie. E a un certo punto si è inventato questo strumento di azienda zero che avrebbe dovuto fare questo tipo di procedure. Sono passati tre anni, tre anni e ancora azienda zero non svolge nulla per cui è stata costituita. Basta con i concorsi frammentati, si fanno i concorsi unici regionali, tranne per i primariati perché non è possibile, ma per tutte le funzioni, per tutte le professioni bisogna fare concorsi centralizzati in cui ci sono opportunità per decine, per centinaia di operatori e poi tutte le aziende assumono da quelle graduatorie regionali. E beh anche qui proclami, proclami, ma ancora siamo al concorso di periferia. Secondo Pacenza la sanità carabrese necessita di un cambio di passo urgente per garantire un servizio di qualità ai cittadini e per affrontare seriamente le sfide quotidiane della salute pubblica.